Si chiama Chara Nelson e è una ragazza di solo 17 anni d'età, giovanissima di Pachanam, la quale sta aspettando inerme il corso della malattia di cui soffre. Infatti ha un tumore al cervello che cresce di giorno in giorno e presto le toglierà la vista e al tempo stesso anche la vita. Un'operazione però potrebbe esporla al rischio di danni cerebrali oppure di ictus. Durante una partita di pallavolo, pensate che la ragazza è caduta in modo rovinoso, sbattendo violentemente la testa, ha cominciato a soffrire di grande nausea ma anche dolori. I controlli dei medici ai quali si è sottoposta hanno confermato la diagnosi terribile, un tumore che purtroppo non si può raggiungere. I medici continuano a dirmi che non c'è molto da fare, soprattutto perché continua a crescere, così avrebbe detto la mamma della fanciulla. La famiglia ovviamente vuole andarci a fondo, vuole farle visitare da un esperto di Sidney e per questo motivo ha lanciato una raccolta a fondi nel web per proprio riuscire a finanziare il viaggio in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, la speranza che possa trovare una cura. Questa ragazza non si è spenta ma è rimasta ancora presente. Un saluto e a presto.